Candidare mi ha spinto la motivazione di dimagrire, di vedermi più magra e stare meglio con me stessa, quindi sentirmi in forma. Alla fine di questo percorso mi immagino snella, bella, magra, in forma, vincitrice. Durante le difficoltà credo che mi aiuterà molto il fatto che io sono una persona che vuole raggiungere gli obiettivi, quindi non voglio sentirmi una perdente, voglio essere sempre una vincente in ogni caso. Alla cittina di due mesi fa direi se insisti e resisti raggiungi e conquisti. In questi due mesi ho imparato a polermi bene, ho imparato cosa significa corretta alimentazione e una buona attività fisica. Allora questo percorso lo continuerò con perseveranza come ho fatto sin dall'inizio.